Falegnameria Paludetto, da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, hai detto che in merito al tuo rinnovo sarà un anno zero questo, puoi essere più precisa? Un anno zero perché giustamente come ha detto la società deve partire da una ristrutturazione societaria, anche economica, quindi dobbiamo stare attenti a questo, a quello di non commettere gli errori che sono stati fatti in passato e quindi oggi anche il mercato dipende molto da entrate e uscite che ci sono da fare. Avevi altre proposte da altre società e hai deciso di rimanere al Venezia, che cosa ti ha convinto in particolare? Come ho già detto prima ai tuoi colleghi sicuramente la parola progetto, io penso che per un attore avere a disposizione la possibilità di essere protagonista di un progetto vale di più di tante altre cose. Proposte ne ho avute, ho sempre fatto sapere tutto alla società perché giustamente ero sotto contratto con la società, la società ha sempre risposto di no e oggi sono contento di portare avanti questo progetto. Senti, per quanto riguarda i giocatori che finora hai visto che sono venuti anche con te in ritiro, che cosa ti aspetti da loro? Mi aspetto un'ulteriore crescita perché l'anno scorso da gennaio in poi abbiamo costruito qualche cosa, è vero che siamo andati a perdere soprattutto dietro dei giocatori importanti e su questo siamo attivi sul mercato per riuscire a raggiungere delle priorità per me importanti, però devo dire che il resto del gruppo conosce benissimo già il lavoro, conosce benissimo quello che è la mentalità dell'allenatore e sicuramente questa è una buona base di ripartenza. Cosa non poco importante, parli praticamente solo italiano ora con i giocatori? Ma sì, era un aspetto su cui battere è importante, siamo in Italia, bisogna parlare italiano, io penso che uno straniero bisogna aiutarlo ma anche lui si deve aiutare a imparare la lingua però io penso che oggi i giocatori che sono arrivati, quei pochi che sono arrivati, vabbè Ghicchiar parla benissimo italiano, Matteo Grandi è un italiano e devo dire che Jay è arrivato con una forte mentalità, la voglia di imparare non solo sul campo ma anche fuori. L'ultima cosa, sul modulo dal 3-5-2 hai sperimentato un modulo diverso? Sì, perché giustamente un allenatore deve fare le proprie valutazioni, l'ho detto nel momento che l'anno scorso siamo andati a perdere dei giocatori importanti che avevamo preso a gennaio in prestito, era giusto che io facevo le valutazioni, queste valutazioni sono arrivate proprio dal reparto difensivo anche se oggi siamo in emergenza stiamo aspettando ancora che il mercato ci possa offrire qualche cosa che possa far crescere questa squadra però era giusto avere qualche giocatore in più offensivo.